Questa mattina c'è stata una riunione interessante convocata dal Presidente Luca Ceriscioli che naturalmente ha preso atto di questa situazione che già per quanto riguarda l'iniziativa che aveva preso noi condividiamo. Stamattina l'abbiamo sostenuto con forza tutti i provvedimenti adottati. Credo che siamo sulla strada giusta di coinvolgere tutta la politica regionale. Oggi c'è il primo ancora problema è limitare i contagi per quanto riguarda la sanità però contestualmente bisogna iniziare a parlare per le nostre decine e decine di migliaia di aziende. Questo è stato recepito, credo che il supporto nostro di una forza di opposizione vada in questo contesto e pertanto credo che siamo sulla strada giusta.